Cardio PHA senza salti. Alterniamo fase di cardio a intensità medio-bassa con esercizi di tonificazione in tecnica PHA con pesetti. Iniziamo! Iniziamo! Circonduzioni in avanti. Facciamo subito un super riscaldamento per la parte alta e poi la parte bassa. Super allenamento PHA. Vamos! Circonduzioni in avanti. Movimento ampio. 3, 2, 1. Cambio. Antiorario. Sempre circonduzione. Vai. Allargo bene. Senza forzare. Movimento controllato. Iniziamo da subito la respirazione. Naso, bocca. Respirazione. 3, 2, 1. Cambio. Movimento pectoral senza peso. Iniziamo ad attivare tutta la parte alta. Deltoidi, pettorali, braccia. Per questo super PHA. Vamos! Apro e chiudo. Vai. 3, 2, 1. Attivazione del tronco. Torsione del tronco. Movimento controllato. Vai. Senza forzare. Attiviamo il tronco. Tutta la zona dell'addome. Respirazione. Vai. 3, 2, 1. Discesa sui fianchi. Sempre l'attivazione dell'addome. Scaldiamo bene prima di iniziare. Vai. tutta la parte alta. Respiro. Mai in apnea. 5, 4, 3, 2, 1. Mezzo squat. Iniziamo l'attivazione di tutta la parte bassa. Vai. 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 Scaldiamo gambe. Glutei. Apro un po' le punte. Mantengo il ritmo. Respiro. E passiamo spinta su gamba. Sinistra. 3, 2, 1. E cambio. Vai. Mezzo squat. E spinta. Io inizio con la sinistra. E poi facciamo il cambio a destra. Vamos! Scaldiamo bene. Pam. 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 3, 2, 1. E passo sulla destra. Vai. Mezzo squat. E spinta. Piccola spinta. Siamo in fase di riscaldamento. Scaldiamo tutta la parte bassa. Prossimo esercizio. Step touch. 3, 2, 1. Vai con lo step touch. Ci spostiamo a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Vai. Faccio lavorare le braccia. Sincronizzo bene i movimenti. Coordinazione tecnica. Prossimo esercizio. V-step. 3, 2, 1. V-step. Apro, apro, chiudo, chiudo. Mantengo il ritmo. Respiro. Faccio lavorare bene le braccia. Sincronizzo il movimento. Vai. Respirazione. Vamos. Apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo. Vai. 10 secondi. Mantengo il ritmo. E ritorniamo in step touch. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Vai. Spostamento a destra e a sinistra. Testa sempre dritta. Postura. 3, 2, 1. Vai. Dietro. Incrocio dietro. Senza salto. Incrociamo. Lavoriamo sulle braccia. Vai. Vai. Vari centro in avanti. Respiro. Aumentiamo un po' il ritmo. Vai. Su. 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 10 secondi. E ritorniamo in step touch. Incrocio. Incrocio. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Respiro. Ci prepariamo. Poi incrociato. 3, 2, 1. Vai. Addome contratto. E poi incrociato. Pam. 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 Mantengo il ritmo. Sposto il piede. Lavora con le gambe. Braccia. Addome. Vai. 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 Mantengo il ritmo. Pam. 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 10 secondi. E ritorniamo in step touch. Vamos. Vai. 3, 2, 1. Step touch. Mantengo il ritmo. Ci prepariamo. Ginocchio su. Iniziamo con il sinistro. 3, 2, 1. Vai. Sinistro. Mantengo il ritmo. Vai. E poi cambiamo ginocchio. 5, 4, 3, 2, 1. E vai col destro. Cambio. Pam. 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 L'altra gamba leggermente piegata. Lavoro col destro. Salgo bene. 3, 2, 1. Calciate i glutei. Vai. Vado dietro. Sali bene. Lavora sulle braccia. 10 secondi. Recupero attivo. Prendiamo i pesetti. E vamos. Pam. Pam. 3, 2, 1. Recupero attivo. Pesetti. Iniziamo subito con i bicipiti alternati. 3, 2, 1. Vai. Destra e sinistra. Porto il peso alla spalla. Lavoriamo sul bicipite. Gambe leggermente piegate per non scaricare il peso sulla schiena. Testa dritta. E vamos. Respiro. 3, 2, 1. Appoggio i pesi e vado in squat. Allargo bene le gambe. Allargo le punte. 3, 2, 1. Vai. Scendo bene. Lo squat è quando il gluteo è in linea con il ginocchio. Vado giù. Pam. 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 Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Riprendiamo i pesi. il pH è il lavoro. Parte alta e parte bassa. 3, 2, 1. Vai. Mantengo il ritmo. Addome contratto. Testa dritta. Prima un braccio e poi l'altro. Vai. E respira. Alterno il movimento. 3, 2, 1. Appoggio i pesi. Ci prepariamo per l'affondo indietro. Alternato. Attiviamo gambe e glutei. 2, 1. Vai. Prima una gamba. E poi l'altra. Mantengo il ritmo. Respiro. ginocchio sfiora il pavimento. E risalgo. E risalgo. Vai. 3, 2, 1. Riprendiamo il peso. Un peso solo. Tricipite doppia mano. 3, 2, 1. Vai. Piego leggermente le gambe. Gomito bloccato. E distendo le braccia. Vai. Respiro. Testa dritta. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il peso. Skip alto. Tocco i talloni. 3, 2, 1. Vai. Tocco. E tocco. Mantengo il ritmo. Sincronizzo il movimento. Tocco sopra. e tocco sotto. Vamos. Vai. Vai. Salgo bene con il ginocchio. Vai. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Pesi. Ancora. Gomito in linea con le spalle. Pectoral. 3, 2, 1. Vai. Piego leggermente le gambe. gomiti in linea con le spalle. Testa sempre dritta. Respiro. Attiviamo il pettorale. Vai. 3, 2, 1. Appoggio il peso. Squat con sollevamento laterale. Gamba destra e sinistra. 2, 1. Vai. Scendo. E slancio. Scendo. E slancio. Mantengo il ritmo. Vado su con lo slancio. Molleggio bene con le ginocchia. Punte leggermente aperte. Vai. 3, 2, 1. Pectoral più spinte. Pesetti. Posizione. 3, 2, 1. Vai. Apro. E spinta. Addome contratto. Separo bene i due movimenti. Cerco di tenere i gomiti in linea con le spalle. Massimo attivazione. Spalle e petto. 3, 2, 1. Passo laterale su mezzo squat. 3, 2, 1. Posizione di mezzo squat. Sposto a destra. E sposto a sinistra. Vai. Vai. Allungo. Cerco di mantenere la posizione di mezzo squat. Mi sposto a destra. E a sinistra. Attiviamo gambe. E glutei. Testa dritta. Ancora. Pam. 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 E respiro. 3, 2, 1. Ok. Pausa. Ripartiamo. Spinte. E bicipiti. Vai. Salgo bicipite. Più spinte in alto. Addome contratto. Piego leggermente le gambe. Una bella posizione di sicurezza. Testa dritta. Separo bene i due movimenti. Salgo. Giro. Spingo. Ancora. 3, 2, 1. Recupero. Appoggiamo i pesi. Affondo indietro. Solo gamba sinistra. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Solo gamba sinistra. Attiviamo solo la gamba sinistra. Lavoriamo anche sul gluteo con l'affondo indietro. Mantengo il ritmo. Respiro. Non mi fermo. 10 secondi. Vai. Ancora. Solo la sinistra. 3, 2, 1. Riprendiamo il pesetto. Un pesetto solo. Tricipiti ad un braccio. Mano in appoggio sul gomito. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Vamos. Blocco il gomito con la mano. Distendo bene il braccio. Lavoriamo sul tricipite. Vai. Testa dritta. Manteniamo il ritmo ancora. 10 secondi. Vai. Spingo. Spingo. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio. Skip. Più doppio slancio. 2 skip. E 2 slanci. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Skip. Skip. Slancio. Slancio. E mantengo il ritmo. Vai. Pam. 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 E vamos. Mantengo il ritmo. Sincronizzo i movimenti. Vai. 1, 2, 3, e 4. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Riprendiamo il pesetto. Andiamo a lavorare sull'altro braccio. Tricipite a un braccio. Utilizziamo l'altro braccio con la mano in appoggio. 3, 2, 1. Vai. Allungo. Allungo. Blocco il gomito. Distendo bene il braccio. Lavoriamo su tricipite. Addome contratto. Gambe leggermente piegate. Vai. Respiro. 10 secondi. Vai. Allungo. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggiamo il pesetto. Abbiamo la fondi indietro con la gamba destra. Dobbiamo lavorare sull'altra gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro solo sulla destra. Salgo. E scendo. Lavoro sulle braccia. Mantengo il ritmo. Vai. Vai. Respiro. Respiro. 10 secondi. Non ti fermare. Il ginocchio sfiora il pavimento. Vai. 3, 2, 1. Recupero. Spostiamo i pesi in avanti. Ci prepariamo al V-step. 3, 2, 1. Vai. Apro, apro, chiudo, chiudo. Due passi ampi, aperti in avanti. Due passi chiusi dietro. Vamos. Mantengo il ritmo. Lavoro sulle braccia. Vai. Pam, 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 pam. Vamos. 10 secondi. Non ti fermare. Resisti. Fino alla fine. 3, 2, 1. Step touch. Respiro. Ci prepariamo al passo incrociato dietro. 3, 2, 1. Vai. Passo incrociato dietro. Sincronizza il movimento. Braccia in avanti. Bari centro spostato. Leggermente in avanti. Incrocio la gamba. E salgo con le braccia. Pam, pam, pam. E respiro. Butto fuori l'aria. Naso, bocca. Vai. 3, 2, 1. E ancora step touch. Vai. Non ti fermare. Pugno incrociato. Tra. 3, 2, 1. Vai. Difesa. Lavoro sulle gambe. Addome contratto. Difendo e pugno. Difendo e pugno. Vamos. Vai. 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 Mantieni il ritmo. Non ti fermare. 5, 4, 3, 2, 1. Gli secondi. Vai. 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 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Respiro. Ginocchio su. Iniziamo con il sinistro. 3, 2, 1. Ginocchio su. Solo il sinistro. Vai. Tocco e salgo. Tocco e salgo. Vai. Vai. Lavoro delle braccia importante. Vamos. 3, 2, 1. E cambio. Il destro. Vai. Vai. E respiro. E mantengo il ritmo. E lavoro sulle braccia. 3, 2, 1. Calciata ai glutei. Vai. Manteniamo il ritmo. Non ci fermiamo. Respiro. 10 secondi recupero attivo. E recuperiamo i pesetti. Vai. 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 3, 2, 1. Recuperiamo i pesetti. Bicipiti alternati. Ci mettiamo bene in posizione. 2, 1. Vai. Prima da una parte. E poi dall'altra. Vamos. Addome contrato. Schiena dritta. Sempre la postura corretta. Vai. E respiro. E respiro. 3, 2, 1. Appoggiamo i pesi. Allarghiamo le gambe. Allarghiamo le punte. 3, 2, 1. Vai con lo squat. Scendo bene. La discesa è fino a che il gluteo non è in linea con il ginocchio. Vai. E scendo. Mantengo il ritmo. Faccio lavorare anche le braccia. 3, 2, 1. Recupero. Riprendiamo i pesetti. Ritorniamo sui bicipiti alternati. 3, 2, 1. Vai. Bicipiti alternati. Prima destra. E poi sinistra. Distendo. E parto. Distendo. E parto. Ancora 10 secondi. Vai. Porto bene il pesetto alla spalla. Su. 3, 2, 1. Recupero. Appoggiamo i pesetti. Rimaniamo in movimento. Affondo indietro alternato. Destra e sinistra. 2, 1. Vai. Dietro. Faccio lavorare le braccia. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Attiviamo gambe. E gluteo. 3, 2, 1. Prendiamo ancora il pesetto. Uno solo. Tricipiti. Doppia mano. 3, 2, 1. Vai. Gomito chiuso. Distendo. E mantengo il ritmo. Vai. Respiro. Ancora. Distendo. Sopra la testa. 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il peso. Rimango in movimento. Skip alto. Tocco delle mani. 2, 1. Vai. Sopra e sotto. Sopra e sotto. Sopra e sotto. Pam. Pam. Alzo bene il ginocchio. Faccio spazio per il tocco delle mani. Vai. Sali. Sali. 3, 2, 1. Ancora pesetti. Movimento pectoral. Gomito in linea con le spalle. 3, 2, 1. Vai. Apro e chiudo. Controlo il movimento. Coordinazione. Gomito in linea con le spalle. Non cedo. Resisto. Vai. Vai. Respira. 3, 2, 1. Appoggio i pesetti. Squat più sollevamento laterale. Gamba alternato. Destra e sinistra. 2, 1. Vai. E sali. E sali. Mantengo il ritmo. Piego bene. Scendo in squat. E vado col sollevamento. Appoggio bene il tallone. Sollevamento. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Riprendiamo i pesi. Pettola al più spinte. Sopra la testa. Respiro. 2, 1. Vai. Apro. Sali. Scendo. Chiudo. Apro. Sali. Scendo. Chiudo. Mantengo sempre i gomiti alti. In linea con le spalle. Vai. Attiviamo al massimo. 3, 2, 1. Appoggio. Passo laterale su mezzo squat. 3, 2, 1. Vai. Spostamento a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Vai. Respiro. Respiro. Mantengo il mezzo squat. 5, 4, 3, 2, 1. E pausa. Ci prepariamo per il V-step. 3, 2, 1. Vai. Apro. Apro. Chiudo. Chiudo. 2. Aperture in avanti. 2 chiusure dietro. Vai. E lavoro sulle gambe. Vamos. Pam. 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 e respiro. Testa dritta. Vai. Apro. Apro. Chiudo. Chiudo. Vai. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. E andiamo in step touch. Respiro. Passo incrociato dietro. 3, 2, 1. Vai. E vado col braccio dietro. Pam. Pam. Salgo col braccio. Incrocio. Vai. 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 Passo incrociato dietro. Salgo con le braccia. e respiro. Vai. Non mi fermo. Mantengo il ritmo. Pam. 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 Vai. 3, 2, 1. Step touch e respiro. Puglio incrociato. Tra 3, 2, 1. Vai. Lavoro sulle braccia. Addome incrociato. Vai. Incrocio. Lavoro su addome e gambe. Vai. 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 Mantengo il ritmo. Puglio incrociato a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Mantieni il ritmo. Vai. 3, 2, 1. Step touch. Lavoriamo ginocchio su. Solo il sinistro. Ok. 3, 2, 1. Vai. Vai. Puglio la gamba destra. Vai. Lavoro sul sinistro. Sali. Sali. Tocco la punta. E sali. Mantieni il ritmo. E poi cambiamo. 3, 2, 1. Il destro. Vai. Sali. Tocco e sali. Tocco e sali. E mantengo il ritmo. E non mi fermo. Vai. 3, 2, 1. Calciate i glutei. Dai. Non rallentare. Ci siamo. Alla grande. Vamos. Sali. 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 Vai. 3, 2, 1. Ok. Respirazione. Allargo le gambe. Vado giù. Inspiro col naso. Espiro con la bocca. Vai. Ancora. Ancora. 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. Piego le gambe. In arco. E salgo. Vai. E salgo. Defaticamento. Stretching. 3, 2, 1. Allungamento sul fianco. Salgo col braccio. Mi sposto leggermente sul fianco. Mantengo la posizione di stretching. Respiro. Braccio dritto. 3, 2, 1. Cambio lentamente. Mano sul fianco. Allungo. Senza forzare. Stretching sul fianco. Respiro. Mantengo lo stretching. 5, 4, 3, 2, 1. Stretching. Prendo bene la gamba. Mantengo la posizione. Senza forzare il collo del piede. Avvicino la caviglia al gluteo. Mi aiuto col braccio per mantenere la posizione. Respiro. 3, 2, 1. Lascio. Piano piano. Sciolgo. Dall'altra parte. Allungo il braccio. Mantengo la posizione. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Stretching. Spala sinistra. Allunghiamo il braccio. Spingiamo verso di noi senza forzare. Manteniamo lo stretching e respiriamo. Defatichiamo. Allunghiamo bene i muscoli. 3, 2, 1. 1, lascio. L'altro braccio. Vai. Senza forzare. Mantengo la posizione e respiro. Mantengo la posizione. Allunghiamo bene. 3, 2, 1. Divaricata frontale. Allargo le gambe. Vado giù piano piano. Dove arrivo? Mantengo la posizione. Senza forzare. E mantengo lo stretching con la testa rilassata. Rimango in stretching. 2, 1. E salgo lentamente. Il tuo workout PH è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. VAMOS. 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 Grazie a tutti.